Ciao, sono Nicolò, sono fisioterapista e osteopata che lavoro a Mantova, il nord Italia, ho due ambulatori. Ho deciso di iniziare a intraprendere questo percorso con Nesa, è una nuova tecnologia per me e credo che possa aiutarmi molto nella mia clinica perché ho molte aspettative riguardo questa tecnologia e questo tipo di correnti, soprattutto per riuscire ad avere più frecce nel mio arco, per riuscire a trattare meglio e in modo più approfondito i miei pazienti. L'ho preso soprattutto perché ho intenzione di lavorare su aspetti del sistema nervoso autonomo che nella mia clinica quotidiana faccio fatica a trattare perché ci sono troppe cose a cui dover pensare. Quindi lavorare sul sonno piuttosto che sullo stress e piuttosto che sulla su tanti aspetti che che trattano cioè che Nesa mi aiuta a trattare è molto importante. Credo che possa essere integrato molto bene anche nell'utilizzo dello sportivo o in quella che è una traumatologia ortopedica in quanto aiuta la rigenerazione del tessuto piuttosto che l'utilizzo l'ottimizzazione dell'energia e non meno vorrei inserirla anche con pazienti di tipo neurologico o diverse persone che a causa della loro patologia o comunque di patologie concomitanti fanno fatica a dormire piuttosto che hanno problematiche nella gestione dello stress dell'ansia quotidiana e quindi credo che possa essermi un ottimo ausilio al mio classico trattamento. Che altro? Secondo me Nesa è una tecnologia diciamo di base molto semplice ma che è molto intelligente perché è un qualcosa che il paziente non trova invasivo. Se applicato nell'ambiente corretto, se formato in modo giusto credo che possa essere molto molto utile nella nostra clinica e nella nostra clinica intendo come clinica quotidiana come come sintomo come trattamento di problematiche associate che concorrono nella creazione del problema del paziente che molto spesso si porta dietro per tanto tempo. Grazie per avermi ascoltato per aver dedicato questo tempo ad ascoltare dell'intervista. Grazie a tutti.